Personale sanitario abbiamo praticamente finito, over 80 siamo a un ottimo livello, fragili abbiamo cominciato ormai da più di dieci giorni le somministrazioni di vaccini a persone malatei di abete, oncologici, cardiopatici, le cose che abbiamo detto la scorsa settimana. Poi completato il mondo della scuola vogliamo fare la verifica se sia possibile vaccinare anche i ragazzi e le ragazze perché andando al di là dell'età però se completiamo la vaccinazione su tutto il mondo della scuola noi potremo riaprire le scuole davvero in condizione di sicurezza e questa dobbiamo sapere è una priorità vera al di là di qualche elemento di demagogia che registriamo quando si chiudono le scuole. Ma questa è una priorità vera. Poi pensiamo di procedere in questo modo, fasce di età per l'attività ordinaria di vaccinazione ma se avremo vaccini aggiuntivi pensiamo di procedere per comparti economici al di là dell'età. Vorremmo mettere grande attenzione al comparto del turismo anche alla vigilia della stagione estiva. Se riusciamo a vaccinare tutta la popolazione di Ischia, di Capri, di Procida, capitale della cultura, costiera sorrentina, costiera amalfitana, cilena, i luoghi che richiamano turismo beh noi vorremmo trovare un punto di equilibrio fra esigenza sanitaria e esigenza economico-sociale. In quel caso andremo avanti a prescindere dalle fasce di età. Così come faremo nelle aree industriali, nelle fabbriche. È chiaro che se ci dà una disponibilità una grande azienda perché ha già un medico e un personale proprio disponibile è chiaro che gli diamo i vaccini e vacciniamo tutti. Ovviamente non è che vacciniamo solo chi ha più di 60 anni anche perché nei luoghi di lavoro ne troviamo pochi ultra 60 anni. Allora pensiamo di muoverci in questo modo.